Buongiorno, sono Lillo Bux, consulente immobiliare della Remax Stella Polare e questa mattina vi presento un bellissimo appartamento con vista mare a Fesca a Bari. Ecco a voi questo pentavani con salone doppio, balcone vista mare. Cucina abitabile con ampio balcone. Tre camere da letto, due bagni. Al piano superiore un roof garden, anche lui con vista mare. Le vostre serate con gli amici sono assicurate. Quindi per qualsiasi esigenza contattatemi pure.